Li stanno cercando in ogni registrazione video dei vari circuiti presenti in zona. Polizia Municipale non tralascia nessuna telecamera di videosorveglianza pur di identificare i tre giovani protagonisti del tuffo nella notte tra domenica e lunedì in sfregio alla città e i buranelli. Prima gli schiamazzi, i tre fumi dell'alco nel sottoportico alle tre del mattino. Poi i vestiti che volano e il tuffo nel canale. Infine una decina di minuti in tenuta da mitica di uno dei tre, tra le rise e gli spintoni dei compagni. La denuncia in questo video da un residente, video spedito al sindaco che ora vuole dalle forze dell'ordine i tre nomi al più presso sul suo tavolo per una punizione a dir poco esemplare. Che chiede già a gran voce anche lo sceriffo della città. Questo è il frutto della mancata educazione delle generazioni nuove che hanno perso tutti i punti di riferimento. Chiesa, patria e famiglia. E allora lei se dovesse educare questi tre ragazzi cosa gli farebbe fare? Oggi farei scavare una buca alla mattina e alla sera riempirla. Come facevano se faceva qualcuno del passato. Ma questo per dieci giorni. E pane e acqua. Non solo una sanzione pecuniaria quindi, ma qualcosa che non possono facilmente dimenticare. Dal resto è quello che chiedono anche tanti cittadini, in particolare chi in città e con i turisti ci lavora. Far pulire tutto quanto il fiume, il fiume dove sono buttati, con le mani nude per me. Una punizione per i tre giovani ma anche per i loro genitori, responsabili di non aver trasmesso il rispetto per gli altri e per la propria città. Se fosse che è capitato a suo figlio o a sua figlia una cosa del genere, lei cosa avrebbe fatto? Forse, forse sarebbe andato al caffoncello. Grazie.